Dobbiamo parlare adesso, ci dobbiamo riferire a una questione che sicuramente fa parte delle regole fondamentali di un processo, del processo civile, e questa situazione riguarda in realtà tre situazioni, cioè i tipi di processo che conosciamo e che abbiamo, e ne sono appunto tre, processi di cognizione, processo esecutivo e processo cautelare. Ovviamente sono collegati fra di loro, ma hanno caratteristiche che li fanno distinguere l'uno dall'altro. E i processi di cognizione, qual è la sua caratteristica fondamentale? Fermo restando che il più complesso che c'è, ne abbiamo di diversi tipi di processi di cognizione, tende sostanzialmente, fondamentalmente ad un accertamento. Poi approfondiremo questa cosa. Il processo esecutivo non tende all'accertamento, perché l'accertamento si ritiene già esistente e si rinviene, accertamento in diritto, si rinviene in un titolo esecutivo. Quindi avendo il titolo esecutivo si può iniziare un processo esecutivo. Se non c'è il titolo esecutivo, processo esecutivo. Non lo puoi fare. Il titolo esecutivo, ma contiene l'accertamento, giustamente, può essere di due famiglie, giudiziale perché proviene da un processo, stragiudiziale perché non proviene da un processo. Ma il processo esecutivo a cosa serve? Beh, se un accertamento è stato fatto, bisogna mettere in pratica, appunto in esecuzione, l'accertamento contenuto in quel diritto. Nel senso, perché succede così sostanzialmente, se nel titolo esecutivo c'è un accertamento di un diritto che presuppone per la sua soddisfazione l'esecuzione di quel diritto da parte dell'obbligato, l'obbligato una certa cosa deve fare. Se per esempio c'è un provvedimento di condanna di confronto di una persona, un debitore, è condannato a pagare una certa somma di denaro, beh sì, nella sentenza, al limite anche nella cambiale, che non è una condanna, ma il debitore si impegna a pagare una somma di denaro, ci sono queste cose, se il debitore le fa, evidentemente è inutile andare a ricorrere, anzi è proprio sbagliato, ricorrere poi a un processo esecutivo. Ma se il debitore non avente spontaneamente le sue obbligazioni, bisogna fare in modo che quello che è stabilito nel titolo esecutivo non rimanga astratto, ma diventi qualcosa di reale. A questo serve il processo esecutivo. Quindi nel processo esecutivo questioni di accertamento, se non come incidente, diciamo, nel processo, non se ne fa. L'accertamento già è stato fatto. Bisogna solo regolare queste esecuzioni, ovviamente non può essere una cosa all'altra in marcia, è una cosa fatta con regole molto precise. L'ultimo è il procedimento, il processo cautelare. Questo è il più particolare tra i tre. Perché il più particolare? Perché qui la situazione è questa. Una persona ritiene di avere un diritto azionabile attraverso un processo di cognizione. Benissimo. Ma la situazione concreta in cui si trova è talmente grave e urgente che non gli consente di aspettare l'esito di un processo di cognizione non solo per vedere riconosciuto il suo diritto, ma nel senso che se anche il diritto è riconosciuto non gli serve a niente, perché nel frattempo la situazione concreta ha leso il suo diritto in maniera grave o irreparabile. Faccio un esempio facile. Ho una bella villetta in campagna, sopra me c'è un terreno, ho una serie di alberi, vabbè, se non che uno di questi alberi comincia a spoggere pericolosamente da terra piena che sta sopra la mia villetta. C'è questo bell'alberone e sotto c'è la mia piccola casetta. Certo, vado davanti al giudice, farò accertare questo e tutto quello che volete, ma nel frattempo che faccio tutte queste cose, l'albero rischia di cadere e mi distrugge la casa. Certo, poi magari si accetterà la responsabilità del proprietario del fumo sovrastante, dovrà pagare queste cose qua, ma nel frattempo la casa è discrutta. Avete capito? Questo proprio per prendervi la questione. Allora, cosa bisogna fare? Beh, mi verrebbe a dire che bisogna metterci una pezza. Cioè, bisogna bloccare quella situazione prima che il pericolo insito nella situazione che vi ho detto diventi qualcosa di reale, nel senso di trasformi in danno effettivo, danno che poi non può essere facilmente sanato dall'approvedimento di merito che riconosce i diritti del proprietario della casetta. Capite? Quindi il procedimento cautelare tende ad arrivare a un provvedimento appunto cautelare che blocchi una certa situazione che può provocare un danno che poi non può essere sanato dal procedimento, dal provvedimento finale di merito. State capendo che per ottenere un provvedimento cautelare due cose si capiscono. Prima di tutto ci vogliono dei presupposti. I presupposti sono il Fumus Boniuris e il Pericolo Mimora. Fumus Boniuris vuol dire che chi chiede il provvedimento cautelare bisogna accertare, seppur sommariamente, che potrebbe avere ragione, cioè che il diritto ce l'ha veramente. Il Pericolo Mimora non è un accertamento sommario, in realtà è un accertamento che viene fatto bene, anche se rapidamente. Cioè il Pericolo Mimora è il pericolo del titanto. Cioè ci si rende conto che se si aspettasse l'esito di un normale provvedimento di merito si potrebbe provocare un danno in maniera grave e irreparabile rispetto al diritto che vanta chi chiede il provvedimento cautelare. Quindi i provvedimenti cautelari sono caratterizzati da queste due cose imposte. Fumus Boniuris, probabilità che chi chiede il provvedimento cautelare abbia veramente il diritto, Pericolo Mimora che è più di una probabilità andare a vedere se la situazione è realmente pericolosa relativamente al danno che si può provocare a chi chiede il provvedimento cautelare. Danno che non potrebbe essere sanato, sanato con molta difficoltà, da un eventuale provvedimento di merito favorevole. Bene, sono questi tre qua. Io ho detto che il più complesso, forse non ve l'ho detto ve lo dico adesso, il più complesso dei tre processi che conosciamo è quello di condizione. Sia perché ce ne sono tanti tipi, ordinarie speciali, tipo processo del lavoro e altre rite, insomma, che spuntano come i funghi. Ma anche perché nel processo di condizioni abbiamo tre tipi di azioni. Le azioni di accertamento, le azioni di condanna e le azioni costitutive. Tutte e tre si basano comunque su un accertamento, però sono molto diverse tra di loro. Partiamo dalla prima, la basica, la basilare, le azioni di accertamento. L'azione di accertamento si caratterizza proprio per un accertamento. Quello che si chiede al giudice è semplicemente di accertare l'esistenza o quali sono i limiti del proprio diritto. Non si chiede altro. Per esempio, posso andare avanti al giudice e il giudice sono veramente i proprietari di questo fondo? Senza chiedere più niente. L'azione di accertamento. L'azione di condanna è qualcosa di più e anche strutturalmente diverso. Perché le azioni di accertamento riguardano quasi sempre, se non sempre, i diritti assoluti. Quelle di condanna invece riguardano i diritti di credito. Perché qui abbiamo un creditore che sostiene, asserisce di essere insoddisfatto nei confronti di un debitorio che non ha del più la sua obbligazione. Si va davanti al giudice implicitamente, ma almeno tanto, affinché questo accetti che il creditore è veramente il creditore e che il debitore è veramente inattentiente. Quindi c'è sempre un accertamento di base, ma non ci si limita a questo. Non si chiede al giudice e giudice, mi accerti che io sono il creditore e che il debitore non ha pagato. No. Si chiede, se no non avrebbe molto senso la cosa, anche la condanna del debitore a eseguire la prestazione. Capito? Quindi alla base c'è sempre un accertamento, ma a questo accertamento si aggiunge una richiesta di condanna del debitore a fare che? A eseguire la prestazione inata impiuta, evidentemente. Nelle azioni di accertamento questa richiesta non c'è, ci potrebbe essere spese processuali, queste cose qua, ma non c'è una richiesta ulteriore di condanna nei confronti del debitore, che là teoricamente non c'è nemmeno. Quelle costitutive sono le più forse particolari, perché l'azione permette di far costituire, modificare e distinguere una situazione giuridica, una sentenza. Cioè la sentenza è quella che crea la situazione giuridica, la costituisce. Prima non c'era, adesso c'è. Prima c'era in un certo modo, adesso non c'è più. Capito? Quindi, sempre alla base c'è un accertamento, perché se uno chiede al giudice una sentenza di natura costitutiva, comunque il giudice deve prima accertare che l'attore abbia il diritto che sta avvantando, sostanzialmente. Quale potrebbe essere? Potrebbe essere la servitù coattiva, la servitù di passaggio coattiva. Io non ho accesso alla pubblica strada perché c'è un fondo che si intromette, per così dire, fra il mio fondo e la pubblica strada. Magari non riesco a trovare un accordo col proprietario del fondo confinante al mio, che lui sì che ha accesso alla pubblica strada. Vado al giudice e chiedo una sentenza che costituisca il mio diritto di servitù di passaggio sul fondo del mio vicino. Il diritto prima non c'era, adesso c'è. Ma azioni costitutive possono essere pure, per esempio, quando io chiedo l'annullamento di un contratto annullabile. Non nullo, annullabile. Allora che succede? Beh, succede questo, sostanzialmente, che credo di essere stato raggirato, quindi agisco per dolo, vado davanti al giudice e chiedo l'annullamento di questo contratto. Ma il contratto annullabile, come voi ben sapete, produce, non è nullo, produce i suoi effetti, non è che non li produce. Producendo questi effetti, il giudice accoglie la domanda di chi vi tiene di essere stato raggirato, la sentenza del giudice è costitutiva, perché elimina un contratto che produceva i suoi effetti, non è come il contratto nullo, invece la sentenza del giudice è dichiarativa, con le azioni di accertamento. Quindi, come vedete, con le azioni costitutive si cambia il mondo giuridico grazie alla sentenza. Con quelle di accertamento e di condanna no, perché le situazioni rimangono quelle, si accertano semplicemente o si accertano con in più la condanna. Certo, per le azioni costitutive, è stato detto, ma noi possiamo distinguere i due tipi, le necessarie e le non necessarie. Le necessarie, per forza, bisogna andare davanti al giudice per ottenere la modificazione giuridica. L'annullamento del contratto, il contratto annullabile, evidentemente. Vado davanti al giudice e lo faccio annullare. Ma io posso trovare un accordo con quell'altro, ma è un'altra questione questa. Questa è un'azione costitutiva necessaria, le non necessarie sono quelle della servitù di passaggio. Certi posso andare davanti al giudice e chiedere alla servitù di passaggio quanti. Ma posso trovare anche un accordo col mio vicino e davanti al giudice non ci va, evidentemente. Però non cambia la questione. Con le azioni costitutive si ottiene un provvedimento, normalmente una sentenza, che modifica una situazione incidenica esistente. Con le altre due no. C'è ancora qualcosa da dire sulle azioni di accertamento. E vi ho detto che l'azione di accertamento è un'azione con cui si chiede l'accertamento di un diritto. Ho un fondo, un terreno, un immobile, sono il proprietario, vado dal giudice e chiedo di essere riconosciuto tale. Quindi mi si accerti la mia situazione. Ma messa così, messa così, chiunque gli prende la voglia di dire ma sono veramente il proprietario, ma la mia situazione in giudice è veramente questa perché ho un diritto assoluto? Adesso sai che faccio? Vado davanti al giudice e si va a fare un bel processo. Ma contro chi lo va a imbastire questo processo? Perché è vero che si chiede un accertamento, ma c'è un motivo particolare che ti ha spinto davanti al giudice. Nel caso che vi ho detto io che io chiedo l'accertamento del mio diritto di proprietà, è perché evidentemente qualcuno me lo sta contestando. Mi fa delle molestie, fra virgolette, che sono soprattutto in natura giurica, mi raccomandate, dice che lui è il proprietario, che deve passare questo, o per esempio c'è un diritto di servitù che li venga assolutamente inesistente, tutte queste cose qua. Allora sì che io vado davanti al giudice. C'è l'azione di accertamento che suppone che il giudice accetti l'esistenza e l'interesse ad agire, che è una delle condizioni dell'azione di cui parla di lui. E l'interesse ad agire da che cosa nasce? Che io ho un diritto e nessuno me lo contesta. No, evidentemente che io ho un diritto e qualcuno me lo contesta. E io voglio far cessare questa situazione di incertezza. Quindi è vero che si può andare davanti al giudice per chiedere l'accertamento di diritti assoluti. Ma è anche vero che questo succede perché c'è una contestazione da parte di qualcun altro. Se no, che motivo si avrebbe? Che interesse si avrebbe ad andare davanti al giudice? Bene, detto questo, abbiamo finito di parlare di un altro principio cardine del processo civile, i tre tipi di processo che esistono nel nostro ordinamento.